Ci sono molte cose che l'Europa può apprendere dal mondo, in un'epoca tra l'altro che viene risposta giuntamente di globalizzazione integrale. La vicenda recente dell'immigrazione è una menzione che può essere ripresa e sviluppata in maniera più ponderata da loro perché facendo riferimento a quella che era stata la sua stessa storia ma anche quella per esempio degli Stati Uniti. E poi c'è la vicenda greca che insegna che l'economia non può avere la violenza sulla politica se non è la sovranità limitata a dei precisi limiti, a dei precisi confini proprio nella possibilità che ciascun paese possa provvedere autonomamente al benessere della propria nazione. Quindi credo che ci siano lezioni che vanno apprese, interiorizzate e sviluppate. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!